Intorno alla mia candidatura sto registrando sempre più entusiasmo, tanti giovani, tanti amministratori locali e anche un grande entusiasmo di partito. Tanti socialisti che oggi si riaffacciano e recuperano l'entusiasmo intorno ad una candidatura giovane che però ha consolidato nel tempo un'esperienza straordinaria nell'amministrazione comunale di Salerno. Credo che davvero siamo a un passo dalla svolta per la regione Campania, riusciremo ad eleggere Vincenzo De Luca Presidente e sono convinto che un contributo importante e decisivo sarà dato dal Partito Socialista Italiano che ha allestito liste in tutte le province della regione davvero forti e competitive e all'interno di questa competitività della nostra lista sicuramente Salerno giocherà un ruolo fondamentale e siamo convinti di eleggere il candidato di Salerno e un eletto sarà a Salerno. Credo e spero che questo ovviamente per l'entusiasmo che sto registrando e che mi porta davvero a girare l'intera provincia in questo viaggio, il viaggio uno di voi ad ascoltare le persone vi possa condurre alla vittoria e quindi a contribuire a portare il centro-sinistra alla regione Campania, alla vita della regione Campania.